e vai vai piano ma che piano Laura io devo recuperare il tempo perso che tempo hai detto? per pitturare è stato troppo tardi e come sai? perché mi sono accorta troppo tardi di avere questa vena artistica che non pensavo di avere e ho fatto altro ho fatto bancarelle ho fatto creatività però comunque eri sempre nell'ambito della creazione e quando hai cominciato proprio a fare questi meravigliosi quadri che troviamo oggi qui in questa galleria della via degli artisti questi sono grazie al covid chiusi in casa ho voluto proprio spezzarmi usare tutti i colori che avevo quindi proprio di recente lo sai che tante persone mi hanno letto che hanno scoperto la propria vena artistica durante gli occhi perché eravamo chiusi noi stessi avevamo bisogno di scriverci e quindi chi aveva questo tempo l'ha tirato fuori esatto io sono arrivata perché ho proprio capito mi piace questo tipo di arte l'astrettismo mi piace il materico mi piace usare tante tecniche sul materico tante uso quadri di spavola quali quadri si vuole qui questa settimana? come? quali quadri si vuole? i quadri che puoi vedere sono cecchi sono manchi sono città sono fiori c'è un po' di tutto ce n'è per tutti senti tiri fuori proprio tutta te stessa quando fai questo si quando faccio questi lavori è come quando dai i colori ai bambini gli dici vai divertiti storcati è quello che faccio qual è la tecnica che preferisci? è il materico il materico spatolato il materico con materiali edili anche si abbiamo storto un quadro il bello dell'avete il nostro stefano non ha tradizionato uso proprio materiali anche che usano i laboratori che cazzo vuole tutto hai un laboratorio? no però no però ho intenzione di adeguire lo fai dentro nasa? si però si 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 sei sorrispata si molto sogni nel cassetto ad arrabarsi ad arrabarsi e magari funzionare questa tecnica ma aggiungendo magari anche qualche corso figurativo perchè tu non fai figurativo? no faccio la giusta in città degli skyline si si questi si mi piacciono molto le città fai estemporanea fai estemporanea? faccio si ho fatto un estemporanea con voi vedere gli artisti è stato bellissimo e se ci sarà un'occasione dopo perchè comunque questa è una tecnica che si presta si che è una tecnica abbastanza immediata si magari il figurativo dove c'è bisogno di concentrazione e tempo però chissà magari in futuro faremo un'altra personale di Marie Perriane con il figurativo dei paesaggi magari dei ritratti chissà ma io ti ritratti magari con questo bel cappello si chissà che mica male io ci sto ok allora complimenti grazie veniteci a trovare grazie per avervi ascoltato e per avervi accettato ricapiti presto perchè ha dato un modo valore e quindi speriamo che questa settimana venga più gente possibile speriamo vi aspetto grazie Marie complimenti grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti